Eccoci qui alla tabaccheria Tumiati, questa mattina dopo diverse vincite c'è stata una top, sono stati vinti 100.000 euro con il gioco del 10 all'8, la giocata è stata di 3 euro e sono molto felice perché è una persona che comunque so che aveva bisogno e quindi sono contentissima. Inutile sottolineare che appresa la notizia a Villa Dossola è iniziata subito la caccia al fortunato vincitore, Andrei però mantiene il più stretto riservo e non si sbilancia sull'identità, dietro al suo bancone con il sorriso stampato in faccia conferma che si tratta di una persona che risiede in zona. Ci siamo guardati e dato via e basta e poi ci risentiremo. Pensando ai momenti della vincita ancora sorride così come ha fatto per tutta la giornata rispondendo ai clienti che si sono affacciati al bar tabacchi, qualcuno curioso alla ricerca di qualche indizio in più sul fortunato, altri alla ricerca di un po' di fortuna a sua volta. Alla ricevitoria di via Bianchi Novello è la prima volta che si totalizza una vincita così importante.